Primo CDA di Arezzo Casa dopo il rinnovo, è arrivata la vicepresidenza per Lorenzo Ruggi, come è andata? È andato tutto bene, il nostro primo incontro è stato molto proficuo, ci siamo conosciuti, ci siamo appena insediati, abbiamo già identificato alcuni punti su cui lavorare, quindi siamo già molto soddisfatti. Questo ente Arezzo Casa ha sulle sue spalle un'emergenza sociale, in gran parte è quella dell'emergenza casa, sono usciti alcuni dati che riguardano il comune di Arezzo ma anche gli altri comuni, in tutte le vallate ci sono tantissime richieste di casi popolari, pochissimi alloggi assegnati, significa tantissime famiglie in difficoltà. Purtroppo come spesso capita nei momenti di crisi i programmi si vanno ad acuire e noi non abbiamo la possibilità e gli strumenti immediati per dare risposte a tutti. Quello della casa è un asset strategico fondamentale per qualunque amministrazione, quindi Arezzo Casa ha una responsabilità enorme gestendo l'intero patrimonio della provincia. Ci troviamo di fronte a una situazione emergenziale e quindi sarà nostra cura e nostro dovere rispondere al meglio. Non siamo ancora stati in grado di identificare tutte le sfide ma sappiamo già che i numeri sono enormi e quindi la difficoltà sarà veramente grande. Ecco, dal punto di vista dell'operatività il CDA si è già dato un nuovo appuntamento? Sì, ci rivedremo il primo di luglio, ci sono cose importanti da decidere come le deleghe, alcuni finanziamenti per lavori fatti e poi da lì in poi cominceremo a lavorare in modo realmente operativo tutti insieme. Ecco, tra le segnalazioni che più spesso ci arrivano sono quelle che riguardano la manutenzione di queste case popolari, alcune sono davvero in condizioni impresentabili? Sì, è sicuramente una delle prime emergenze, non ci possiamo nascondere davanti all'evidenza, insomma chiunque sappia quali sono gli alloggi popolari e li abbia visitati almeno una volta sa di che cosa stiamo parlando, quindi questa sarà una delle sfide più importanti che questa amministrazione deve affrontare. Le risorse dove si trovano? Beh, adesso ancora non sono in grado di dirvelo perché per quanto riguarda la contabilità dobbiamo ancora renderci conto esattamente di che cosa stiamo parlando, ci siamo insediati soltanto oggi, però cercheremo di fare l'impossibile.